Ritengo che la direttiva sull'efficienza energetica sia stato un primo passo importante verso quello che è il vero pilastro, secondo me, della strategia 2020-2020. L'ipotesi è che si riesca sul serio a raggiungere da qui al 2020 il 17% di efficienza energetica a parità dei risultati, un 17% in meno di consumo di energia. Io credo che si possa fare moltissimo dalla grande impresa, dalle grandi infrastrutture fino alla nostra abitazione. Tutti potremmo fare qualche cosa, a questo siamo chiamati da questa importante scommessa.